Il titolo è volutamente, come dire, do it yourself, quindi il DIY, il fai da te, a do it for me, una trasformazione che gradualmente sta portando il consumatore ad affidarsi a specialisti e a continuare a fare le proprie cose fin dove è possibile, ma che comunque diventa un'offerta che è sempre più presente nei punti vendita di cui andiamo a parlare. Questa è una tabella proprio di GFK che ci riporta al dato del 2022. Stamattina abbiamo avuto un'anticipazione del primo trimestre del 2023 che dà addirittura una crescita del 3,5 su questo canale. È una crescita però, come dire, condizionata dall'inflazione, quindi è fondamentalmente un canale che in questi anni è abbastanza statico. Ciò non lo è stato invece negli ultimi cinque anni, come vedete qua, dove in realtà l'aumento e la crescita è stata di oltre il 14%, quindi è un canale vitale, è un canale dove si alternano settori che vanno meglio, settori che vanno peggio a secondo dell'annata, della stagionalità, ma che comunque continua la sua crescita. In questo momento sono 27 le insegne che noi come testata analizziamo. La metodologia è quella di prendere in considerazione le catene, le insegne, che hanno almeno tre punti vendita. Nel periodo in cui io ho deciso di focalizzare l'attenzione, ovvero dal 2019 a oggi, cioè nel senso pre-pandemia, post-pandemia, guerra, le insegne sono aumentate da 24 a 27. La stragrande maggioranza la fanno gli negozi a conduzione diretta, molto meno, come potete vedere, quelli in affiliazione. Peraltro quelli in affiliazione sono in continuo diminuzione. Cioè è uno dei temi che tratteremo anche oggi, cioè l'affiliazione continua a essere attrattiva per questo settore, oppure invece no, oppure invece è destinata a sparire. In ogni caso, dal 2019 a oggi sono stati aperti 40 punti vendita e il fatturato, come dicevo prima, è aumentato di oltre di quasi 700 milioni di euro. Ci è piaciuto fare questo, diciamo così, questo confronto fra le diverse aggregazioni. Quindi abbiamo messo insieme quelle insegne che si sono accorpate fra di loro in una sorta di collaborazione, come vedete qua, su uno sistema che raggruppa il consorzio Brico Life e un'insegna come Brico Io, il gruppo Bricofer, che invece è un gruppo che ha tre insegne, Bricofer, Self e Ottimax, e il terzo gruppo che è ADEO, che come sapete è l'Erua Merlin, Tecnomat e Brico Center. Tutti gli altri se ne stanno per i fatti loro. Per metri quadri, come vedete, per metri quadri, in vincet, se vogliamo usare questa parola, il gruppo sistema, cioè per numero di punti vendita, ma se appena passiamo al numero di metri quadrati, già ci accorgiamo come ADEO assolutamente prende il sopravvento, proprio perché ha due insegne che invece sono abituate ad aprire dei big box, quindi dei grandi formati. Però è interessante capire che comunque, se noi isoliamo ADEO con le grandi superfici, la prossimità comunque è fondamentalmente prevalente in questo sistema distributivo. Ancora più interessante è questa ripartizione in percentuale per fatturato, dove qui ADEO fa oltre il 60% e bisogna scendere al gruppo Bricofer per arrivare al 9,7 e poi a OBI per il 9,3. Quello che spicca indubbiamente in questa tabella, almeno dal mio punto di vista, è il confronto fra un insegno come l'Heroa Merlin, che conta 51 punti vendita, e un OBI, che per quanto abbia delle metrature leggermente inferiori, insomma, ha una sproporzione di fatturato davvero significativa. Chiaramente Tecnomat avanza, ed è una vera, cioè è la case history di questi ultimi anni, e quindi, insomma, continuerà a crescere, però, comunque sia, rispecchia un po' quello che è il mercato, quello che preoccupò moltissimo quando l'Heroa Merlin acquistò Castorama, è il fatto di una sorta di sbilanciamento di questo segmento di mercato, e mi raccomando, non del mercato totale, dell'home improvement. Un altro aspetto interessante è che si parla tanto di prossimità, di riduzione delle metrature, però, in realtà, se andiamo a vedere, da 2019 al 2022 sono le grandi superfici che hanno aperto, da 36 a 48 sono passate, sono tantissime, diminuiscono fortemente i negozi fino a 1000 metri, mentre invece, appunto, aumentano quelli da 1000 a 2000 metri. È chiaro che aperture di grandi dimensioni ci si mette anni in Italia ad attuarle, però è altrettanto vero che c'è ancora spazio, e forse, come dire, ridurre la presenza del centro brico e garden alla sola prossimità non corrisponde al vero. Ha ancora senso definirli centri brico? Io ho tanti anni che lavoro in questo settore, effettivamente si dice vado al brico, o vado al centro brico, ma ormai è una definizione che non ha più senso. Bricoman ha cambiato nome per evitare di confondersi con il bricolage. Ed è vero di bricolage di cui parliamo sempre meno, nel senso che o in un modo o in un altro, e poi andremo a vedere come, in realtà questi negozi si stanno trasformando in centri per la casa, o home center. Siamo nell'era dell'home improvement, in italiano si dice miglioramento della casa, in inglese è un concetto un po' più ampio perché comprende un po' tutte le attività, mentre noi se parliamo di manutenzione pensiamo a lavori un pochino più piccoli, meno decorativi, un po' più, insomma, pratici. Però la verità è questa e i negozi lo dimostrano e qua ci siamo. Ho voluto presentarvi un po' quella che è l'evoluzione di questi ultimi tre anni, come ho detto, quindi considerate anche il momento storico, la pandemia, la guerra, ma in realtà questo canale ha continuato a lavorare in maniera, secondo me, molto interessante e molto dinamico. L'ultimo esempio, in ordine di apertura, perché è datato da metà novembre, quindi è una veramente un'apertura di pochi mesi, è l'Euron Merlin di Catania, che dal mio punto di vista rappresenta proprio in toto l'evoluzione di cui ho parlato prima. Cioè, siamo passati da un centro bricolace, in realtà l'Euron Merlin è un percorso che è intrapreso già da molto tempo, ma con il negozio di Catania siamo davvero su un altro livello, un altro pianeta, quindi esposizioni che sono da specialisti, esposizioni che invitano la clientela ad affidarsi aree progetto dove si può progettare dal giardino, dal bagno a 360 gradi, cioè chiave in mano. Quindi, un home center, come direbbero in America, come un centro per la casa vera e propria, dove anche il livello espositivo migliora, come potete vedere, io ho, ad esempio, l'illuminazione è un dato molto interessante, perché prima l'Euron Merlin non esponeva così, qua invece abbiamo sia prodotti di qualità diversa, quindi qualità anche più alta, ma anche proprio il sistema espositivo è molto più attraente. Questo percorso di rendersi più attraente è un percorso molto importante, non è un dettaglio, spesso si pensa che il centro bricolage, in quanto tecnico, non abbia questa esigenza, in realtà non è vero, ad esempio, un recente convegno di GS1, un sondaggio, scusate, di GS1, proprio sulle, questo tipo di distribuzione fatto a un campione di shopper vede l'attrattività del negozio in termini proprio di gradevolezza a punti abbastanza bassi, cioè prima ci sono tante altre cose, è vero, più importanti, ma il livello di gradevolezza di un punto vendita fa sì che la gente poi entri di più, cioè lo frequenti più agevolmente. Il bagno, vediamo, molto importante anche qui, il salto di qualità nell'esposizione, piuttosto che novità come la domotica e la sicurezza installati in questo modo, le ambientazioni, le strutture da professionisti come per i pavimenti e i rivestimenti, ma non è l'unico l'Erua Merlène, ad esempio un altro tentativo Hobby, nonostante non abbia aperto, ma qui le immagini che voi vedete sono relative a due trasferimenti, il primo, Bolzano, che è un bellissimo negozio di 10.000 metri quadri, è passato da 5.000 a 10.000 in una struttura nuova dove ha presentato delle innovazioni interessanti, sia espositive come vediamo negli elettrotensili, 2.500 metri quadri di area dedicata al garden, vivo, piante vive, attrezzature, vasi, quindi un garden center a tutti i livelli, era già una specializzazione di hobby, ma qui è proprio portata all'ennesima potenza, piuttosto che la didattica, qui il punto vendita di Lonato, ad esempio, ci presenta un modo di trattare dell'elettricità e anche lui, in questo caso la domotica, non come le Roi che ha molti più metri, quindi che ha una sorta di isola proprio dedicata, qui con degli espositori però diversi, se vogliamo, innovativi per questo canale, non visti, non trattati, soprattutto poi in questo insegna. Anche la prossimità, però, che come abbiamo visto, è prevalente in questo sistema distributivo si è evoluta, ha evoluto dei format, per cui ad esempio, non so, abbiamo Bricoio che si declina in sette, loro si chiamano sette negozi diversi, ma in realtà sono sette marchi a cui fanno capo sette merciologie diverse, poi parleremo dell'evoluzione dell'assortimento. Come vedete sotto il negozio di Lugo è aperto nel 21, che è un negozio che si apre finalmente a dei percorsi diversi, quindi non più solo il corridoio, una forma rettangolare, ma dei percorsi anche più gradevoli, più ampi, che invitano anche alla frequentazione, piuttosto che magari un Bricochei, come in quel caso, che sceglie di aprire il suo negozio con un'isola dedicata a tutti i prodotti che ha a batteria, quindi dall'elettro utensile alle biciclette alle attrezzature per il giardino. Le stesse insegne sono anche quelle che poi, oltre a essere prossimità, sono anche cittadine, quindi sono dentro le città. E qui abbiamo, da un esempio di Fadda, un negozio piccolo, un piccolo negozio inserito all'interno del tessuto urbano e reso particolarmente gradevole con pavimenti in legno, con assortimenti di prima necessità, casalingo, che comunque assolvono al loro compito di esigenza primaria, spicciola, ma nello stesso tempo offre un ambiente gradevole. con Brico Center invece il discorso è un po' più complesso, un po' più profondo, ha affrontato un restyling, un rebuilding molto complesso in quasi tutti i suoi negozi, quello che vedete qua è proprio Corsica, Milano Corsica, che è uno degli ultimi, ed è un negozio storico cittadino all'interno proprio di Milano, dove ha lavorato moltissimo sull'esposizione, sull'offerta, sul layout, rendendosi, e soprattutto sul servizio, e poi anche in questo caso andremo a vederlo. Quindi sono format nuovi, sono format diversi, tutto questo in un arco di tempo, se vogliamo, neanche poi così tanto lungo, però lo sforzo è stato notevole per avvicinarsi sempre di più ad una clientela che diventa sempre più esigente. E qui siamo appunto all'evoluzione dell'assortimento. Si ampliano, abbiamo visto prima l'esempio di Brico.io con sette negozi in uno, dove troviamo non solo l'accessorio auto a cui ormai siamo abituati o il PET a cui siamo abituati, ma anche altri prodotti. Questo ad esempio è un esempio carino, divertente, nel Brico Cay di Tradate, che per la prima volta ha inserito un reparto dedicato all'abbigliamento per il giardinaggio. Era una cosa nuova, non l'avevo mai vista da nessun'altra parte in Italia, piuttosto che una serra per Brico Cay è un'assoluta novità. Però è vero che anche qui si è andato ad inserire in un negozio che è anche questo soggetto a trasferimento, che è passato da 2.000 a 4.000 metri quadri, per cui è diventato un formato come loro chiamano XXL, quindi ha avuto più possibilità. Però l'inserimento di un abbigliamento da giardinaggio può essere dare un valore aggiunto appunto ad un reparto che è già molto importante per le insegne del Brico dell'Ummimprumen. E qui siamo proprio invece ad altre merceologie fino a qualche anno fa assolutamente distanti in Italia dal Brico e Garden. L'elettrodomestico, ma si parla di grande elettrodomestico, quello che sopra vedete è uno degli shop di Brico.io che è electro, dove troviamo dal grande alla piccola elettronica di consumo, televisori e quant'altro. Mentre invece nell'altro che vedete come ad esempio il piccolo elettrodomestico è Bricofer che addirittura ha una propria private label che è Blake. Quindi ci sono dei prodotti che vengono a marchio lavatrici con il marchio Blake. Piuttosto che cura persona, casalinghi, Brico io ad esempio con bolle blu, ma ad esempio anche lo stesso Obi di Bolsano che non aveva, cioè le pentole insomma non era mai capitato di vederle dentro un Obi e invece le ritroviamo casalingo e anche prodotti per la cucina. Igiene persona e invece curioso quello che vediamo curioso perché è sintomo dei tempi è l'ultima immagine che è sempre l'Erua Merlin di Catania dove vediamo uno shop dedicato ai depuratori dell'acqua che peraltro mi dicono essere anche molto richiesti e questa è una tendenza. Queste sono altre tipologie ad esempio a aggregare alle belle arti la cartoleria lo fa ad esempio secondo me molto bene Brico Center laddove poi è in città per cui e serve quindi serve qualcosa per i figli per la scuola e è subito a disposizione piuttosto che anche scelte curiose molto più curiose che non detergenza cura persona che è la vendita dei materassi però ci potrebbe che stare perché sono anche questi fanno parte della casa parliamo di Brico Key piuttosto che appunto le biciclette le abbiamo già viste non solo i Brico Key c'è anche mondo Brico ci sono anche altri insegni che propongono le biciclette e veniamo ai servizi naturalmente l'implementazione dell'assortimento e il format un format più curato più attraente lascia spazio anche lascia spazio non può esimersi anche dall'implementazione dei servizi abbiamo detto prima dal do it yourself al do it for me per cui do it for me presuppone che ci siano più servizi servizi vogliono dire prodotti fatti su misura costruzioni fatti su misura quindi progetti serramenti su misura le tende su misura l'accostamento maniglie porte per cui io arrivo mi siedo e trovo un operatore che mi riesce a consigliare mi da dei suggerimenti sul serramento che voglio cambiare sulla maniglia che voglio abbinare piuttosto che la climatizzazione tutta una serie di servizi che sono sono anche comunicazione ad esempio io trovo molto interessante quella di brico center vedete disponibile in 5 giorni cioè lo mette sui prodotti a lato dei prodotti disponibile subito in 5 giorni in 10 giorni in 20 giorni è una modalità di comunicazione ma è anche un servizio cioè io ti dico questo prodotto lo puoi avere ma devi avere la pazienza di aspettare 5 giorni la consegna il chiama e compra lì un esempio di eurobrico ma non è l'unico per cui chiami per telefono queste poi sono tutte cose che col covid si sono non dico amplificate ma addirittura anche avviate per taluna insegne prima non c'erano piuttosto che sempre nell'area dei servizi entrare laddove prima non si era quindi non so l'installazione delle caldaie l'installazione degli scaldamagni la manutenzione delle caldaie e poi c'è chiaramente anche il web qui non faccio riferimento all'e-commerce perché non è questa la tabella ma anche qui siamo il web come servizio complementare e per cui Tecnomah su TikTok racconta si racconta e propone delle offerte piuttosto che le live shopping ha iniziato l'Euroa Merlin ma poi c'è stato anche l'esempio di Perbrico con la Bronet o ad esempio Mano Mano che addirittura si è recentemente anche inventata una app per dialogare e fornire dei servizi ai professionisti o addirittura in termini di servizi ma non solo anche commerciale l'ultima di Brico io vedo dove comincia esserci una differenziazione di prodotto cioè qui lo compri solo online se vuoi invece un altro prodotto allora lo trovi sul negozio fisico tutto ciò succede mentre le stesse insegne guardano anche oltre al proprio solito diciamo format l'esempio sicuramente più eclatante di quest'anno a meno che non succeda qualcos'altro ma siamo solo a maggio quindi tutto può essere è l'apertura di l'Euroa Merlin Garden un negozio che si differenzia da tutto il resto che vediamo sul mercato anche dai garden center che conosciamo anche quelli più con un merceologico più strutturato ha recentemente aperto a Cagliari a marzo quindi è nuovissimo laddove c'era il primo Bricoman Elmas quindi di fianco voi vedete l'entrata ecco proprio di fianco c'è Tecno la nuova sede di Assemini è un negozio di 2000 metri quadri coperti più 1000 esterni dove è molto verticale sul garden per cui lì trovate veramente tutto la foto che vedi sotto con i trattorini è proprio di Leroy Merlin Garden dove si va molto in profondità anche sul tecnico non è un negozio che si limita ad un'offerta superficiale per il fai dataista del sabato e della domenica ma vuole anche andare a offrire prodotti che siano utilizzabili anche per lavori più ampi più complessi va molto sul marchio cioè chi conosce Leroy Merlin sa quanto ha lavorato sulla private label sull'EPL ecco qua c'è un'esaltazione anche per avere acquisire una credibilità in più perché comunque sia in Sardegna ci sono anche altri competitor più o meno e però deve proporsi in modo che possa essere convincente e quindi il marchio non vi ho messo altre foto perché se no bisognerebbe parlare solo di lui ma non mi sembra il caso però effettivamente è una novità per il nostro mercato piuttosto che declinazioni sulla casa completamente diverse sull'arredamento abbiamo visto nel tempo casa tua del gruppo paterno e nel 2021 ha aperto addirittura casa tua relax quindi tutti imbottiti imbottiti e letti ritornano i letti con i materassi piuttosto che pronto home che sappiamo essere l'insegna di pronto pronto brico del gruppo Raffaele che anche lui ha aperto un punto vendita dedicato alla casa ma oltre a questo ci sono dei competitor che stanno evolvendo anche loro e stanno evolvendo sempre di più in una direzione univoca pur mantenendo le caratteristiche ma adattando i loro negozi in modo che in futuro il consumatore possa anche scegliere entro in un Lerua Merleno o entro in un bagno e pavimenti di Orsolini che è un multipoint dell'edilizia che oltre a avere degli showroom ha differenziato aprendo appunto con un insegna di bagno e pavimenti ma nello stesso tempo nella foto di fianco ha recentemente aperto a Sesso San Giovanni un 8000 metri dedicato ai professionisti quindi come vedete ci sono gli elettrotensili è lì da vedere insomma non solo Orsolini ma anche ad esempio un Big Mat che recentemente ha presentato proprio tutta un'offerta a libero servizio che anche in questo caso può diventare sì attraente sicuramente per i professionisti ma considerando la come dire la presenza capillare delle rivendite di anche nelle città tutto sommato anche un privato può scendere a comprare quello che gli serve o piuttosto andare verso un'estetica offerta questo è il progetto Abimat sempre di Big Mat dedicato ai rivestimenti rivestimenti quindi rendendosi anche più gradevole nei confronti del consumatore quest'ultima quest'ultima slide invece la dedico a qualcosa di un po' più particolare più outsider nel caso di Brick World no quello che mi preme sottolineare di Brick World piuttosto di Max Factory è il fatto che sono a conduzione di proprietà cinese e ci sono diversi punti di vendita cinesi sul nostro territorio che trattano il Brick o Gardner e l'Unimprovement solo che anche loro stanno evolvendo in questa direzione cioè quindi da bazzaroni abbastanza disordinati con prodotti anche magari di poco costo stanno invece evolvendo in negozi come potete vedere le foto sono lì ordinati puliti che vendono prodotti di marchio hanno un assortimento molto ampio mi dicono essere per i fornitori buoni pagatori e quindi e molto anche dinamici nell'aprire i negozi quindi anche loro comunque marciano verso una direzione di dinamica in questo mercato l'ultimo invece è una situazione un po' particolare Action si professa discount è olandese e ha oltre 2000 punti vendita in Europa è arrivato in Italia nel 2021 in aprile nel 2021 e oggi ha già più di 30 punti vendita è un discount dedicato alla casa se voi non l'avete visitato vi consiglio una visita perché lui a parte l'intimo caramelle insomma qualcosa di cibo per il resto sono tutte merceologie che voi trovate dentro un brico solo che sono no name oppure sono siccome gli acquisti sono centralizzati sono in genere marchi sconosciuti ha un formato molto aggressivo vede prezzi molto bassi cambia 150 prodotti a setti ogni settimana ci sono 150 prodotti nuovi e si sta diffondendo veramente a macchia d'olio quindi un altro competitor che si affaccia al mercato io ho finito con 4 minuti di ritardo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti